A seguito dell'incendio che martedì 17 marzo ha distrutto il tetto di una palazzina lasciando senza dimora un'intera famiglia, ad Artogne si è immediatamente attivata la catena della solidarietà. I buoni propositi sono scesi in campo fin dalle prime luci del giorno successivo a Rugo, quando l'amministrazione comunale, dopo aver reperito una sistemazione provvisoria per i propri compaesani, in collaborazione con l'associazione Amici di Artogne, ha deciso di indire una raccolta fondi per supportare la famiglia in questo difficile momento. Noi contiamo che la solidarietà che è ormai radicata nel nostro paese possa intervenire al sostegno della famiglia di Artogne che ha perso la propria casa in seguito all'incendio del tetto attraverso una donazione sul Liban che abbiamo messo a disposizione tramite l'associazione Amici di Artogne, mettendo come causale appunto la solidarietà a questa famiglia che ha avuto questo grosso incidente. Di fatto hanno trovato fortunatamente un alloggio temporaneo intanto che si ricostruirà il tetto ed è per questo che noi chiediamo alla comunità e a tutti coloro che sono nella possibilità di farlo di dare un sostegno economico per far sì che questa famiglia possa ritrovare al più presto la propria casa e la propria serenità. Bisogna far presto perché è urgente questo intervento per cui dobbiamo fare in modo che questa famiglia recuperi al più presto il suo alloggio proprio anche in seguito al tempo che oggi non è ancora primavera, non è ancora piena estate per cui noi auspichiamo che loro possano rientrare nelle condizioni migliori e per cui dobbiamo proprio cercare di far in fretta per poterli aiutare e sostenere. L'associazione Amici di Artogne, che è una convenzione col comune, è un'associazione seria, fatta di persone serie che sono unite e si sono unite appunto per fare del bene all'interno di quello che è questo grande progetto del grande cuore di Artogne. Nella causale basta porre la dicitura erogazione liberale per cui coloro che doneranno potranno poi recuperare nella loro dichiarazione dei redditi una percentuale di quanto donato.